Come si traduce concretamente la sostenibilità nei processi produttivi? E poi, la sostenibilità è un'opportunità o è un ostacolo per le imprese? Su queste domande e tanto altro si sono confrontati gli addetti ai lavori e istituzioni durante il seminario la sfida della sostenibilità a nuove opportunità per le imprese pugliesi, organizzato da Ambiente CPA, ETC Engineering, Oscar Solution e Urota ETS, realtà diverse che operano a vario titolo nel campo dell'economia circolare, della transizione ecologica e della sostenibilità. Ritengo che oggi non si possa non parlare di sostenibilità. Lo stato attuale, l'evoluzione tecnologica ci permette di fare investimenti, di continuare l'attività produttiva al contempo di tenere d'occhio quelle variabili della sostenibilità che sono a temi ambientali, di governance e di impatto sul territorio. Oggi è una sfida a cui non possiamo mancare per garantire quell'equità intergenerazionale, per garantire anche un futuro alle nuove generazioni. Noi siamo un'azienda che lasciamo in Toscana ma abbiamo un presidio qui su Taranto. Perché siamo qua? Perché da un punto di vista ingegneristico abbiamo tutti gli strumenti per permettere di tradurre in azioni concrete tutto ciò che si nasconde e che si cela dietro questo mondo della sostenibilità. Quindi noi chiediamo fortemente a questa sfida e crediamo che il dialogo col territorio, per questo che siamo qui oggi, sia importante, convolgendo tutti gli stakeholder. Non si può fare sostenibilità se non si convolge il territorio. Come si posiziona Taranto in questa realtà? Lo abbiamo chiesto al vice sindaco Gianni Azzaro. Taranto ormai è al centro del dibattito e comunque sta a questa vocazione, ormai la stiamo dimostrando quotidianamente sul tema della sostenibilità. Nell'esempio questo evento che ha portato con sé anche grandi aziende di notevole rilevanza, ne è del fatto anche, da come dirà la nostra vicepresidente della Commissione Europea, anche l'Unione Europea, che ha testimoniato quanto il territorio di Taranto sta lavorando su questa direzione. Nella dimostrazione è anche il fatto dell'ultima delibera di giunta, con la quale abbiamo approvato i quattro progetti che utilizzeranno proprio le risorse della Just Transition Fund, da quattro progetti che prevedono la Green Belt, le filiere del mare, la Biennale del Mediterraneo e i centri di ricerca. Tutti ambiti che colpiscono non solo il settore economico, ma anche quello culturale e quello sociale. Quindi davvero Taranto, terreno fertile per le aziende che vogliono insistere, che vogliono comunque insediarsi qui nell'ambito della sostenibilità. E a tutte queste aziende, noi come amministrazione, stiamo dicendo che ci siamo e c'è un grande opportunità per loro, che sono proprio quelle risorse destinate alle aziende private, proprio del JTF. Ma le aziende e le imprese, come devono vedere questa nuova realtà? Come prepararsi? Gli obiettivi delle imprese sono quelli di rendersi conto, attraverso momenti come questi, che la sostenibilità, prima di essere un costo, è un business. È un business che va perseguito e sostenuto. E come Camera di Commercio, sin dagli inizi, abbiamo partecipato alla realizzazione della prima norma nazionale sulla sostenibilità e sul bilancio di sostenibilità dello Stato italiano. Siamo stati consulenti per la Regione Puglia per l'adozione della legge sulle società benefit. Siamo dashboard nazionale, grazie al supporto anche di Infocamere, per il sistema delle società benefit, delle B Corp. Siamo quindi in prima linea sugli aspetti della sostenibilità, che riteniamo un elemento essenziale per la competitività delle nostre imprese del futuro. Ma il fatto stesso oggi, in questo convegno, le aziende intervenuti, gli stakeholder che stanno lavorando sulla sostenibilità, dimostrano che questo territorio ormai è pronto per la sperimentazione, ma diciamo che ormai è in atto. Quindi noi come Confindustria ci crediamo tantissimo, ci abbiamo sempre creduto, che appunto, e lo dicevamo già qualche anno fa, quando tutti sostenevano che questa era la terra dei veleni e basta, invece non è così. La sostenibilità ormai è un mantra per questo territorio e noi siamo convinti che sarà un territorio che verrà attenzionato positivamente dalle altre parti della nostra nazione, ma a livello europeo, per quello che sta avvenendo. Un seminario, insomma, che è servito a creare maggiore consapevolezza del delicato momento che sta attraversando l'attuale modello di sviluppo, attraverso anche testimonianze di aziende già avviate nel settore, come l'esperienza di Claudio Modina, socio e direttore commerciale di ETC Oscar Solution, che si occupa di acqua. Perché quando noi parliamo di sostenibilità e lo decliniamo all'interno di quello che fanno le nostre aziende, parliamo di acqua. Quindi noi trattiamo l'acqua pulita e sporca e oggi non possiamo pensare ad un mondo sostenibile senza l'utilizzo dell'acqua. Quindi utilizzare l'acqua in maniera irresponsabile, riutilizzarla, depurarla adeguatamente al centro della sostenibilità ambientale e soprattutto al centro della missione di ETC e di Oscar.